La Regione Piemonte è la prima regione ad aver lanciato una strategia complessiva per l'innovazione sociale, coordinando e coinvolgendo le politiche di quattro assessorati diversi. La strategia WeCare intende promuovere un ripensamento complessivo e un cambiamento duraturo e sostenibile nelle modalità di concepire e praticare il welfare e la coesione sociale. Attraverso un set di diverse misure che compongono la strategia, la Regione intende portare innovazione all'interno dei servizi sociali e dei servizi territoriali, promuovendo un dialogo e una collaborazione tra i diversi enti che lavorano sui territori. Le misure si rivolgono a diversi soggetti che cercano di implementare questa strategia sui territori. Enti gestori delle politiche socioassistenziali, enti di formazione, centri per l'impiego, ASL, agenzie per la casa, enti di terzo settore, associazioni di volontariato, imprese che producono impatto sociale e imprese che sviluppano welfare aziendale. Tutti sono coinvolti nella gestione e nella sperimentazione di queste misure che cercano appunto di portare il welfare da una dimensione di assistenzialismo all'essere, al divenire al pari degli altri un asset di sviluppo per i territori. Un filo rosso che collega quattro azioni, che collega enti pubblici, terzo settore, imprese, tutto mirato col grosso obiettivo di cercare di creare innovazioni sul territorio. Oggi, guardando i risultati delle progettazioni, abbiamo 22 progetti pubblici che arrivano, una quarantina di progetti dal terzo settore e diverse richieste da parte dell'imprenditoria. Vuol dire aver costruito sul territorio una sorta di corresponsabilità, di azioni reciproche, di essersi parlati sul territorio e tante entità che insieme, obbligatoriamente, rispetto a questa strategia e al progetto presentato, dovevano unirsi. Molto probabilmente vuol dire essere più forti sul territorio, aver creato alleanze e probabilmente far sì che questi progetti abbiano gambe non solo limitate nel tempo del progetto, ma possono veramente creare la vera innovazione di cui non solo il Piemonte ha bisogno, ma noi siamo orgogliosi perché partiamo dal Piemonte.